Il motocross, divulgazione sportiva, facciamo conoscere meglio il motocross sulla spiaggia a Montesilvano dove da tanti anni cerchiamo di lavorare su questo lato, ci siamo riusciti con l'aiuto dell'amministrazione comunale di Montesilvano la capitaneria di Porto, l'ufficio dei Magno, tutti quelli che si sono impegnati, è stato molto impegnativo però ce l'abbiamo fatto La gara competitiva ci sarà a aprile sul lungomare di Francavilla Logicamente per quello che riguarda la gara competitiva la gestione è diversa, questo è solo divulgativa sportiva per far conoscere meglio il motocross La gara è completamente una gestione diversa, più persone di servizio, sicurezza, invece è così solo per far divertirsi, quindi è tutto un altro spirito